Ok, perfetto Non è che trucchi quando tu hai nato GENGAR PRIDE Coppiamo il papà Su madre Dai caldo Raga questo non se neva Animali in animale, benvenuti in questo nuovissimo video Finalmente uno spacchettamento Pokémon in compagnia di altre persone E anche con delle penitenze Spero che questo video sia di vostro aggredimento Supriamo i 50 milioni di piace E nel prossimo spacchettamento aprirò Il pacchetto della prima generazione Che mi è costato 42 euro Un pacchetto Godetevi tutto il video E buona visione Ehi, bella a tutti ragazzi e ragazze Sono Anime Bentornati in questo nuovo video Come potete vedere siamo nella mia camera da letto Ma non penso che si siano accorti subito di quello, vero Giuseppe? Non lo so perché ci sono un po' di colori sul vostro viso Ok Come potete vedere io e Tudor finalmente abbiamo fatto coming out Solo nel video però Ragazzi dite qui sotto nei commenti quanto gli dareste per una botarella Ieri è uscito un video sul canale di papà Dove appunto ci ha ridotto così perché se sbagliavamo a rispondere delle domande Ci beccavamo un po' di trucco Dite che sono troppo Tumblr Guardate il trucco che io ho fatto Giustazio che adesso ci tocca a te Papà Vegas Makeup Artist Vedremo se tocca a me Giustamente ci dobbiamo vendicare su papà Giustamente Quindi quest'oggi come potete vedere apriremo il nostro primo box di Pokémon Che sono battaglie trionfali Perché Pokémon e trucchi ce ne stanno proprio come pane e nutella E' un passo dalla Pokémon Makeup Cioè Domani ovviamente troverete il video sul canale di Klaus E vedremo la trasformazione finale In cosa consiste questa diciamo sfida in cui io e Tudor fortunatamente non parteciperemo Apriremo 12 pacchetti a testa Questi sono mischiati quindi non sappiamo che cosa c'è dentro ovviamente Perché non sono stati truccati Un box appena arrivato Non sapendo cosa c'è dentro tu potresti salvarti da il trucco oppure no Come mi salvo? Ti salvi soltanto se te la allargo un po' per aiutarti Se trovi una ultra Una ex Una ex full art Una Yolo Una Yolo Una Yolo Una Olo No la Olo no Mi è uscito un pezzo dei te occhi Che schifo Ogni volta che trovo una rara mi salvo Escluse Olo Reverse e 0 Dai Va bene va bene Ok mettiamo la chicca 12 Tre carte Che se le trovo però Vi chiudo il trucco Ve lo finisco Se trovi una leggenda Parchia e Di Alga Leggenda Se trovi Machamp e Gengar Se trovo Parchia Di Alga Machamp e Gengar Vi chiudo il trucco Si però non Gengar normale Vabbè logico Gengar special Va bene va bene insomma Ci sto ci sto Ci sto L'ammetti che schifo Ma te lo trovo è un cazzo Intanto apriamo il box Te lascio decidere dai 12 pacchetti Ma questi se mi rivendo quanto ci faccio Ma infatti ci stava a pensare pure io E dai Quindi ci abbiamo Fatevi vedere Ok ci siamo Non c'è il trucco C'è il trucco Ma non c'è l'inganno Mi state popate Ma ti stiamo facendo Viaggiare sugli allori Che cosa stai incendiare Ma cosa Prima perché Mettiamolo qua Ma io non so neanche a aprire Il pacchetto Papà Ma sei una schiappa E boom Magmar E già Sto meglio di venire Noi andiamo diretti Perché questo è un video Bastanza lungo Quindi direi di andare diretti Ma insieme Oh c'è stai di Tentacullo Dratini Fermi Oh oh Eh Oh oh Tiè Eh Questa è la reverse Abbiamo Io cintura nera Sceno blu Ti prego dimmi che c'è una special Cos'è sta cagata E qui ti truccavo? E dai E andiamo E come prima cosa C'è sto un bel rossettino Ma penso di me Hai capito dove è a bocca tu? Aspetta Apri un po' di più le labbra Perché le denti? Eh ma perché sei più carino Ma perché le stai a truccare nero te? Ci siamo Che questo ti porti fortuna Secondo pacchetto Secondo pacchetto Andiamo spediti fino alla reverse Verdaccia E almeno Un cuoricino Cubone Dello zio di Sasha Ma tu potresti anche parlare eh? Eh io non so Un cazzo di insetto Qua ci sta come trucca Giuseppe e le persone Un coso Un poligono La reverse La reverse Ma sono tutte reverse Aspetta No la reverse esce sempre Ho capito Tre Due Uno No Che va Cioè si Sì abbiamo trovato due holo Rapidash e pori con z Dai Hai creato un video che non è fattibile Tornerò a casa che non sarò più io Ragazzi qualcuno mi sta a toccare le labbra però Ma questa cosa non va Perché mi è stata a fare il naso? Io ti ho truccato con un senso Tu mi stai a fare il naso nero Un attimo Ok Perfetto Guardate la differenza Io sono un cazzo di mostro A voi vi ho truccato È uscito dalla miniera Torciopacchetto Oh Marowak Ma state calmi Dai così Kangaskhan Nidorino Ungnov Nidoran Electro Illuminati Magna mai Questo non lo conosco Odrati Zio Molto Oh Attenzione PJ Siamo quasi eh Nidoran Gastro Bella sta reversa Bello E questo qua Ci abbiamo sempre sta reversa Ma che schifo la Yamla è reversa Uno Porca droia ditto In ogni box c'è qualcosa per forza Speriamo Tanti colori Come state a vestire il carnevale Ragazzi Fai così che cazzo Così favo più colori insieme Aspetta papà chiudi gli occhi No È un'esplosione di colori Sta troppo c'è sta Ma c'è sta coda Guarda che figo Guarda che figo Vabbè non capisce nulla papà di trucchi Ragazzi già sono diventata una merda Non è che trucchi quando tu è nato Proseguiamo con i pacchetti Ancora Electabuzz È la settima volta È così Una Va bene Andiamo Marwak Una merda Io trovo già questo qua Non l'hai girata Non l'hai girata è ritardata Quindi mo c'è sta l'altra Fai così Ce l'ho fatta Vai Electrabuzz Electabuzz E su tre ne abbiamo trovati in tre pacchetti Nidoran Giorgio Polygon del cazzo Chi Francesco Pupone La mamma di Tudor Skill point Oh Eccolo super Eccolo Si chiamano Prime Le super Ecco Sono alcune delle super Questo è quello che serviva a me per salvare Sì Mi toglie No che bello Raga Ganger Prime E Wailord Vai Te prego Wailord Sto il gatto 18 di merda Ganger Prime Aia Ma sta domizziamo Aia Sopriamo Pato Aaaaaah 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 Dai papà Come ho trovato io la tua carta Sono cascate Sono cascate Sono cascate Sì ma La gravità Vabbè Giuse Si trova qualcosa In questi pacchetti Raga mi è stata addobba a Natale Guarda le braccia Cioè sei bellissimo Due Tutto non sai neanche che cazzo sono i pokemon Si chiama che infanziatrice Ho cominciato a giocare a pokemon con pokemon go io Ma l'unica qualcosa triste è da tu padre che ti scopò da piccolo Guarda come stava combinato Aaaaaah Oh che cazzo parlate voi raga Ci siamo raga Dai Gemelle Lengua lunga Cavale gemelle Magmar Magmar Gastly vale qualcosa Non vale assolutamente niente Bene Monkey Ipom Sai da No Licky tang Oh 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 Questa me salva Mi ho Mi ho Mi ho Mi ho Mi ho Come c'è È mio super Che bella Bella Sono salvo L'ultima zi non c'era Sì l'ambiporn L'ambiporn Il proprio porno Vabbè io non l'ho finito raga Potrebbe esserci qualcosa qui eh Illusim E' una cacata Oh Altaria Che coso le prendi stavolta Giuseppe Cazzo E' ho trovato Mew Sei salvat Demone è una carezza Ragazzi sono orrido 1 2 3 Sei orfano Sono orrido Ah Magby Drago polvere di stelle Whale mare Ma che cazzo Sailor moon Oh Lupen I cavalli della scioglia Matchup Non lo so questo chi è È Aaron questo Quest'altro PJ Ok ci siamo Matchup Bonita Bella La reverse Arriva la reverse Arrivata la reverse Voltorb Arriva la reverse Maia 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 Cernasino A me Coricino All'occhio Coricino Tutto Un cuore Facciamo una cosa Facciamo il cosplay di papà Croce Rossina Tu devi stare a fare Con sta cosa Faccio i bambini Adesso Stai la fracca a bere Così Papà quanto prendi anche tu stasera Tu al circo ti prendi Guarda qua Maia Fa cagare va Però la si è messo bene Porygon 2 Mamma Camina Stalingua tu madre Una balena Magmar Piloswine Non lo so cosa sia Gastly Qualcuno Coso Shrek Shader Maggio Aaron Oh 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 Questa vale un fottio raga Oh Oh Si è che Ma non è i surti Eeeh Eeeh E ce l'ho già spaccate Manca monete In effetti papà sta meglio Venga Dai la reverse Scorupi Arriva la reverse Tentacle reverse Vai Dai Sto cazzo di squadra è merda Sor rock holo Ti hai scelti tu eh Senti che morbido Si C'è proprio un tocco le giade Ma che besta Scrasta Non lo so Eh si eh Perché bisogna togliere Tutta impurità Ti abbiamo incoperto tutta la barba Adesso sembra che ne dimostri 42 Grazie mille gentilissimo Oh Grazie Cazzo Sai che bambi anche a te C'è le mesh Non è mai capo questo Grazie Ah Non tocchiamo bene Raga non vedo manco l'euro Per sto trucco Cosa Voglio palca Ragazzi Non me ne frega un cazzo Sti cazzo Guardo manco Va Fa culo Facca gara Dammi palca Oh 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 Ok Sono la reverse Energia reverse Reverse Dai 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 14 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 16 16 18 17 Che il trucco è finito e prende tutto per... Ah sai che sto a cercare altri trucchi? Il naso bronzo Oh mamma in faccia! Ma sono fighissimi i capelli un po' copertini Dai eh, se può continuare Chi fa a cambio? Metti prima del cat e sotto Ho paura, perchè hai fatto sta cosa? Eh, e quella è il coso di cambiare 1, 2, lardo Drakonai, grosso, nidoran Giallo, prosciutto di parma Swimball, parmigiano, bianco, Gastly, magneto, caraval Aspetta, cubon Aspettate raga, no, io ho visto qualcosa Io ho visto qualcosa E io papà, papà hai fatto... Scarta prima tu Sele biolo E' bello però non mi salvava Faglio vedere! Porchè ma sto merdo Vabbè vediamo se almeno è giusto anche il mio Nido kingolo Bella Raga ma è uno shampoo, è un trucco Papà, devi alzarti papà Vieni qua, resuscita che dovevo truccare Papà è peggio lì Aaaaaaah Aaaaaaah Adesso ti faccio diventare Amara Maionchi Aia Raga questo non si leva Amara Se i pacchetti non è uscito niente Papà ti è andata male Basta, rompere le mie carte Papà, bisogna anche fare l'interno orecchio 10 euro bocca e culo E l'orecchio 20 euro, ok? Madonna quanto sei bello Ragazzi grazie mille per dentro l'orecchio però Direi che siamo... oh tu madre Comunque animale animale abbiamo trovato un sacco di prime H super Papà ha avuto la giusta punizione che... Giusta mi sa di no Senti hai scelto i tuoi pacchetti E i tuoi pacchetti erano marci Non dare la colpa ai tuoi make up artist Se superiamo i 50 milioni mi piace Nel prossimo video spacchettamento Capirò il pacchetto vecchissimo Della prima generazione Che costa 42 euro Chi è che ti da 40 euro per aprire un pacchetto? Ma tu te l'ho rubata dal portone Ma tu sei la merda Ringrazio Papa Vegas, Klaus Trovate appunto domani il video sul canale di Klaus Ieri uscito sul canale di Vegas Andateli a vedere Vi ringrazio tutti i tuoi due lezioni Come sempre potete iscrivervi qua Guardate altri due video ai lati Noi ci si becca domani con un nuovo video Stay angry Stagli animus